Con i recenti cambi di personaggio che hanno avuto Elias, che ora è conosciuto come Ezekiel, anche se in teoria è suo fratello minore, e Pete Dunne, ora conosciuto come Butch, ho avuto l'ispirazione di fare questa classifica, perché c'è altra gente che avrebbe bisogno di rinnovare il proprio personaggio. Anche se parliamoci chiaro, Pete Dunne lo preferivo prima, ma la fazione con Rigiolland e Scimus, secondo me funziona, è divertente. Non so quanti successi possa effettivamente portare all'ex campione di NXT UK, però mi fa sorridere, mi fa divertire, e i tre sembrano a loro agio in questo ruolo. Un ruolo molto scimusesco, perché il brawler da pub si addice perfettamente al Celtic Warrior. Gli altri due sono un'incognita, ma basta parlare di questo. Addentriamoci nella classifica, perché la gimmick può fare la fortuna o la sfortuna in certi casi di un atleta. La testimonianza vivente è Cody Rhodes, che prima di abbandonare la WWE nel 2016 si era trasformato in Stardust, e quella parentesi è meglio togliersela dal cervello. Poi, una volta lasciata la World Wrestling Entertainment, è tornato Cody Rhodes, si è ricostruito e ora è uno dei personaggi di punta dell'intera compagnia dopo il suo ritorno a WrestleMania 38. E ora lo sapete meglio di me? Bando alle ciance. Discutete col team creativo nel backstage per scegliere il personaggio più adatto a voi. Fallite la vostra run, così finirete vestiti da tacchino e allacciate le cinture, perché... Foca e Fiamma amici sono il vostro Certified Why e questi sono 5 wrestler WWE che devono cambiare personaggio. Numero 5, Ezekiel. Lo so, l'ho appena cambiato, ma ragazzi, ma che idea è farlo tornare dopo mesi e mesi? Dopo che abbiamo visto Elias che brucia la sua chitarra, dice che Elias non esisterà più, come suo fratello minore. Cosa? Ma chi l'ha avuta quest'idea? Poi non ho capito, è Face? Perché è contro Kevin Owens? È Hill? Perché ci prende tutti in giro? È una situazione assurda e spero che verrà accantonata al più presto. Mi spiace per Elias che adoravo da chitarrista, da drifter, che era in grado di attirarsi contro intere arene ed era per questo che il pubblico lo ammirava. E invece così, oltre a essere il sosia di Ficarra, cosa può darci? Cioè, oggettivamente, il suo debutto è stato un promo insieme a Kevin Owens, dove Kevin Owens lo sputtanava, semplicemente. E detto, no, sei Elias, smettila di fare l'idiota. Altro che partire col piede sbagliato, qua è partito in carrozzina. Sono davvero sconcertato e credo che il povero Elias, perché Ezekiel, lasciamo stare, finirà nel giro titolato di quella parruccata del 24-7 Championship tra matrimoni, spot comedy e quant'altro. Anche perché non vedo come possano renderlo credibile nella parte alta della card. Numero 4, T-Bar E forse anche Mace. Dico forse anche Mace perché durante un segmento non registrato dalle telecamere sembrerebbe aver cambiato personaggio, ottenendo come manager LA Knight da NXT. Per quale motivo? Non ne ho idea. Funzionerà questa cosa? Non lo so. Verrà mantenuta nel tempo? Boh, c'è la WWE, eh. Potrebbe veramente comparire vestito da giocogliere settimana prossima al buon Mace. In questa posizione voglio dedicarla a T-Bar, perché la Retribution gli ha rovinato la carriera, palesemente. Cioè, come T-Bar non è assolutamente credibile, anzi è totalmente inutile nel main roster, ma questo era Dajakovic. Ci ricordiamo Dajakovic ad NXT? Cosa combinava? Sia maledetta quella stable di ribelli. Non ha funzionato all'inizio, poi questi due sono diventati un tag team, dopo il draft sono stati divisi per qualche strana ragione, ma ripensando ai match che il buon Dominic combatte ad NXT, per esempio contro Keith Lee, o contro Karrion Kross, mi viene da piangere. Uno spreco assurdo. Io vedrei bene un suo sclero, una roba del tipo, ma perché sono conciato come un idiota? Voglio tornare a essere quello che ero prima, non ho più niente di cui ribellarmi, non devo più far casino, non devo più tirar le molotov sui cassoni fuori dall'arena. Vabbè. Voglio tornare a fare il wrestler, non il predone di Fallout. Numero 3. Nikki A.S.H. Non che fossi un grandissimo fan di Nikki Cross prima che si trasformasse in questa super eroina, più eroina che super, però almeno aveva un senso, con la sua personalità turbolenta, forse deviata dal passato nei sanity, con i suoi cambi d'umore improvvisi, con la parentesi di coppia con Alexa Bliss. Tra l'altro, dopo il suo cambiamento, questa ha anche inspiegabilmente vinto un titolo mondiale. Non si sa come, non si sa perché. E sinceramente non so quale sia la mente in grado di partorire questa roba, la The Hurricane dei poveri. È anche vero che a Ro c'è un sacco di competizione e sarebbe difficile per lei emergere. E comunque è una due volte campionessa di coppia, oltre che essere Miss Money in the Bank. Però diciamocelo chiaramente, ora che è ill, non ha senso lasciarle questa gimmick da eroina fallimentare. Numero 2, Happy Corbyn e Madcap Moss. I due hanno splittato, basta dire questo. Levate liste gimmick, idiote. Perché Madcap Moss ha costruito la sua parentesi insieme a Corbyn su battute squalide, volutamente squalide, eh. Che ogni tanto mi hanno anche fatto divertire. Però ora che sono separati non ha più senso che uno sia l'Happy Corbyn, trasformatosi dopo un'insperata vittoria al casino, che lo ha fatto diventare milionario. E l'altro non posso più vederlo con le bretelle, i calzoncini e i mocassini, perché è oggettivamente brutto, brutto, brutto. E ha anche vinto un André the Giant Battle Royale. Ok. Per quanto riguarda Corbyn, ho un po' di paura. Perché con le sue gimmick hanno spesso deciso di azzardare la cosa. Prima come il Constable Corbyn, poi come King Corbyn, ora come Happy Corbyn. Anzi, tra King e Happy è diventato anche Barbone Corbyn. Quindi forse è meglio lasciarlo così? A me manca il primo Baron Corbyn, il Lone Wolf. Quello cazzuto che faceva di tutto per vincere. Ora capisco che è un ottimo heal, capisco che gli si addice il ruolo di scorrettissimo, che in ogni modo cerca di distruggere i propri avversari per ottenere la vittoria. Però secondo me renderlo un heal più cazzuto e meno cazzone avrebbe il suo perché. Madcap Moss, invece, ora che avrà questa rivalità contro Corbyn, deve uscire dal suo personaggio. Perché rimanere rinchiuso nel giullare che fa battute idiote non porterà nulla per lui. E secondo me lui ha il look adatto e anche delle discrete abilità sul ring che potrebbero renderlo a tutti gli effetti una star. Ed è per questo che necessita di un rework, di un restyling completo. È sempre un pericolo dire questa cosa perché non sappiamo mai cosa potrebbe apparirci sui teleschermi settimana prossima. Prima della posizione numero uno volevo inserire anche Theory. È chiaro come la WWE ci stia puntando forte e voglia renderlo una grandissima star in futuro, però questo personaggio del protetto, però un po' idiota, la storia dei selfie, non mi convince del tutto. Chissà che col titolo degli Stati Uniti non riesca a rivoluzionare un po' la sua immagine. Perché se devono farcelo piacere forzatamente, almeno che abbia dei motivi per legarsi a noi fan. Numero uno, Alexa Bliss. Cosa devo dire di Alexa Bliss? Senza Bray Wyatt non ha più senso che abbia questo personaggio soprannaturale, con l'Alexa's Playground, con Lily, con i poteri. Era legata a The Fiend. Ora non c'è più. Non abbiamo bisogno di uno spin-off. E non a caso non la vediamo da Elimination Chamber perché non ci sono piani per lei. È palese. È emersa anche una news di una sua frustrazione per questa cosa. Abbiamo visto dei segmenti con lo psicologo che non hanno portato da nessuna parte e che qualcuno l'aiuti veramente a svestirsi di questi panni da film horror. Anche perché è bello, figo quanto volete, spara le palle di fuoco dalle mani, ma non ha vinto niente. Anzi, ha fatto perdere The Fiend, avreste almeno 37 e basta. E allora ragazzi, queste erano le mie cinque posizioni di questa personalissima classifica. Sicuramente ho dimenticato qualcuno che meritava l'inserimento nella top, ma suggeritemelo voi nei commenti. A chi cambiereste personaggio in WWE? Dal vostro CertifiedWire è tutto anche per oggi, grazie mille per essere passati, noi ci sentiamo in un prossimo video e non posso far altro che salutarvi con un grandissimo ciao.